Mi ha spinto la convinzione con cui il direttore mi ha cercato, nonostante venga da un infortunio crede in me e questa è stata la cosa determinante. Ancora non sono a posto, abbiamo da lavorare sul ginocchio e poi sulla parte atletica, è un po' difficile stabilirli, adesso per non rischiare niente vi direi ottobre, è tutto un po' da vedere però ho conto di farlo il più possibile. Per me è una sfida perché rientrano in fortuna, dunque voglio rientrare, rientrare bene soprattutto perché il mio obiettivo è quello di tornare a fare gol, non le presenze. A livello di squadra dobbiamo essere una squadra ambiziosa, avere ambizione e provare a stupire. Secondo me l'età conta relativamente, conta come uno sta fisicamente, io credo abbiamo i giocatori di grande qualità e ovviamente l'esperienza in campo può sempre dare una mano. No, 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 è una definizione giusta, io cerco di stare più vicino alla porta possibile perché le mie caratteristiche sono quelle. Positivo, positivo, ho conosciuto ieri tutti i ragazzi del mister, mi sembra un ambiente in cui si lavora con entusiasmo, che è importante, col mister ho scambiato giusto tre parole però l'impressione è stata ottima.